Mai dire sì, in originale Remington Steel è una serie poliziesca creata da Robert Butler e Michael Gleason e è andata in onda sulla NBC dall'ottobre del 1982 al febbraio del 1987 per quattro stagioni. I protagonisti sono Laura Holt, investigatrice privata interpretata da Stephanie Zimbalist e Remington Steel affascinante e misterioso truffatore interpretato da Beast Brosman. L'incipit della serie è molto semplice. Laura Holt è molto brava nel suo lavoro ma non riesce a far carriera per colpa di fatto che è donna. Decisa comunque a far valere il suo enorme talento crea una sua agenzia privata e per convincere i clienti ad affidare i casi inventa la misteriosa figura di Remington Steel, geniale detective misantropo che gestisce l'agenzia senza mai farsi vedere. Nel corso della prima puntata all'agenzia si presenterà un misterioso personaggio che dice di essere proprio Remington Steel. La serie come idea nasce nel 1969. Il concept iniziale prevedeva una serie investigativa molto hardboiler dove la protagonista fosse una donna forte e emancipata. Quando però Robert Butler la presentò al capo della allora MTV Grand Tinker quest'ultimo la bocciò perché considerata un po' troppo avanti con i tempi. Nel gennaio del 1980 dopo il successo di diverse serie con protagonista femminili come Pepper Anderson o Mary Tyler Moore Butler ripropose il progetto a Tinker che gli suggerì di farsi aiutare a lavorare sulla serie visto che le premesse erano piuttosto scarse e poco interessanti anche solo per imbastire una serie. Butler quindi iniziò a lavorare con lo sceneggiatore Michael Gleason che ebbe l'intuizione vincente di far apparire realmente il fantomatico Steel nella prima puntata. Con questo nuovo incipit i due tornarono nuovamente da Tinker che nel frattempo era diventato presidente della NBC che a questo punto avallò la serie ordinando di girare il pilota. Per la parte della protagonista fu contattata Stephanie Zimbalist, figlia d'arte, suo padre finirà addirittura per recitare una serie, che aveva già una carriera molto avviata nel cinema. La sua candidatura però ebbe due piccoli problemi. Il primo la ritrosina dell'altrice che non era molto convinta a legarsi a una serie televisiva per molti anni e il secondo era che dal vivo con i capelli legati a coda di cavallo e con gli avidi sportivi la Zimbalist appariva fin troppo giovane per la parte. Mentre il primo problema si risolse quasi subito, dopo una notte insonne l'attrice firmò il contratto, per il secondo ostacolo si dovettero aspettare le foto di scena. Una volta che l'attrice fu vestita con abiti più formali e indossò il mitico Fedora, la dirigenza convenne che era la persona giusta per la parte. Anche l'assignazione della parte a Peace Brosnan non fu facile. Questo perché in questo caso la dirigenza della NBC non era convinta della scelta dell'attore, considerato un esordiente assoluto negli Stati Uniti, visto che l'attore, d'origine irlandese, si era trasferito da poco negli Stati Uniti. In questo caso però i produttori resistettero alle pressioni della rete e Brosnan venne preso a bordo. La NBC chiese esplicitamente ai produttori che l'episodio pilota fosse ambientato sei mesi dopo l'arrivo del finto Remington Steel nell'agenzia, facendo partire la serie quindi praticamente in corsa. La cosa non funzionò e gli spettatori rimassero piuttosto confusi sui rapporti che intercorrevano tra i due protagonisti. Vista la reazione del pubblico, la rete ordinò comunque la prima stagione, ma chiese di girare un nuovo pilota, questa volta che raccontasse il primo incontro tra i due protagonisti. Questo nuovo pilota è diventato poi il primo episodio della serie, intitolato in italiano troppo bello per essere vero, mentre il primo pilot è stato riciclato con le dovute revisioni come secondo episodio. La prima stagione stabilisce tutti i canoni che poi diventeranno ricorrenti nella serie, primo fra tutti il fatto che ogni puntata è direttamente o indirettamente ispirata a un classico del cinema e che Remington Steel cerca di risolvere i casi ispirandosi proprio alle trame di quel film. Nella prima stagione viene introdotto anche il personaggio di Murphy Michaels, che è il rivale di Steel per quanto riguarda la conquista del cuore della protagonista. La prima stagione addetta di tutti i critici televisivi è quella con le sceneggiature migliori, tanto da vincere diversi premi. Alla fine della prima stagione James Redd, che nella serie interpreta Murphy Michaels, non era soddisfatto della direzione e del peso che il suo personaggio aveva nella serie. La risposta della produzione fu un licenziamento in tronco. Per sostituirlo si creò quindi il personaggio di Mildred Cabbs, attraente 35enne che cerca di sedurre Remington Steel. Durante i provini per la parte si presenta però Doris Robert, che nonostante il suo curriculum di attrice di tutto rispetto era ben lontana dall'essere il personaggio che gli autori avevano in mente. Nonostante questo la sua audizione fu così convincente che gli sceneggiatori riscrissero totalmente il personaggio per adattarlo all'attrice. La terza stagione consacra definitivamente la serie come un successo della rete. Il telefilm si assesterà intorno al 28esimo posto tra le serie più viste d'America. E sia come apprezzamento da parte della critica che la premierà con diversi Emmy. La terza stagione poi si distingue per il finale a Cliffhanger, dove i due protagonisti, dopo un lento ma graduale avvicinamento sentimentale, sembrano apparentemente rompere e andare ognuno per la propria strada. La quarta stagione è ufficialmente l'ultima stagione della serie. Nonostante i buoni ascolti, la NBC decise di chiudere il telefilm per far posto a una serie a loro dire più promettente, Hunter. Durante l'estate però le repliche della serie ebbero un boom di ascolti che, uniti alle proteste dei fan, spinsero la rete a produrre una miniserie di sei episodi. La cancellazione e la successiva riesumazione della serie causò seri problemi ai due protagonisti. Brosman era illizza per essere il nuovo James Bond, la parte però andò a Timothy Dalton, mentre la Zimbalist dovette rinunciare addirittura al ruolo di coprotagonista in Robocop. Ed ora, come sempre, alcune curiosità sulla serie. Uno degli sceneggitori, Glenn Gordon, alla fine della terza stagione lascia la serie per creare Moonlight per la ABC, cosa che irritò non poco i vertici della rete. Secondo Laura Holt, l'idea del nome di Remington Steel deriva dall'unione della marca di una macchina da scrivere e di una squadra da football. Tutti i titoli delle puntate in originali contengono la parola Steel. Remington Steel è un gran fan del cinema e più in particolare di Humphrey Bogart. Questa sua passione si vince dal fatto che ha cinque passaporti falsi di cinque nazioni diverse e ognuna di loro è uno dei personaggi interpretati da Humphrey Bogart al cinema. Il primo attore a cui la produzione pensò per la parte di Steel era Anthony Andrews, che però rifiutò la parte. Brosman era molto preoccupato della rivalità con Moonlight, questo perché riteneva l'altra serie meglio scritta, più audace e con un supporto maggiore dalla rete. Stephanie Zimbalist è la figlia di Ephraim Zimbalist, attore che ha avuto una lunga carriera ed è arrivato perfino a far parte del cast del telefilm, interpretando il padre di Remington Steel. La vera identità di Remington Steel non viene mai rivelata nel corso della serie. Uno degli episodi della serie è stato scritto e diretto dalla Zimbalist. Per l'esattezza è il ventesimo episodio della terza stagione intitolato Steel in the chips, in italiano la formula segreta. Anche per questa volta è tutto, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanella in modo da non perdervi i prossimi. Se volete seguirmi sugli altri social trovate tutti i link in descrizione e come sempre se volete che parli del vostro telefilm preferito scrivetemelo pure nei commenti. Grazie per la visione!